Briga, due battute velocissime, allora questa partita è finita in favore vostro, avete vinto 5 a 4? Non è importante chi ha vinto, è importante che hanno vinto tutte queste persone, adesso la gente un po' se n'è andata, ma prima, avete visto, c'erano 45-40 mila persone, è una cosa... Come è stato entrare in campo allo Stadio Link? Meraviglioso, è un sogno che avevo fin da bambino e ho dato il 100%. È diverso come salire su un palcoscenico dove suoni, canti? Certo, qua se correte più. Ok.